Aspettative ed armonia sono due delle chiavi principali, diciamo, della felicità. Questa è una conclusione a cui sono arrivato ieri mentre vloggavo, no? In inglese. Poi questa mattina parlandone con un amico, con un mio preziosissimo e valorosissimo amico, per quanto si comunichi a distanza da quasi sette anni, perché sono sette anni che non rientro in Italia e che non ho modo di abbracciarlo, mi dice, Elia, la felicità, la felicità, però non è che la sopravvalutiamo un po' troppo questa felicità, perché più importante della felicità, suggeriva lui, è la serenità. E effettivamente questo amico di valore, questo amico valoroso, ha ragione, perché gli ho detto, vedi Manu, hai ragione, perché al di là che se ne parla anche nel libro Il potere di adesso, di Eckhart Tolle, che si può anche essere non necessariamente felici, ma se si è sereni, si può gustare il presente. Io tra qualche giorno, tra una decina di giorni, una ventina di giorni circa, riaccompagnerò i miei genitori all'aeroporto. Li ho visti l'ultima volta a febbraio del 2023 e abbiamo avuto modo, il privilegio, di stare insieme due mesi. Ne parlo già al passato, benché siano qui adesso nel presente, ma io sono qui a vloggare e loro sono di là, quindi è vero di fare la svelta per stare insieme e goderci il presente. Ebbene, ho avuto il privilegio di gustare insieme a loro due mesi, a diretto contatto, quasi 24 ore al giorno, tutti sotto lo stesso tetto. È bellissimo, meglio di chiunque altro. Poi avendo il privilegio di lavorare, diciamo così, da casa e quando c'è da lavorare sul campo, di lavorarci insieme, come magari alcuni di voi avranno visto nei vlog precedenti, quando siamo in fase di risistemazione di un immobile, di ristrutturazione di un immobile, mi corregge sempre mio padre, ma rehab in inglese si traduce appunto risistemazione più che ristrutturazione. Ebbene, dopo questo privilegio di gustare insieme così a fondo il tempo insieme, anche appunto a fronte del fatto che gustiamo il presente insieme, magari più di altri che danno la presenza reciproca per scontato, perché insieme ci sono sempre nel quotidiano, noi che insieme ci siamo a distanza di tempo, per brevi frangenti dopo lunghi periodi di tempo, il presente insieme cerchiamo di gustarlo al meglio, spesso anche smussando, cercando di chiudere un occhio sulle imperfezioni che noi tutti abbiamo per salvaguardare il rapporto reciproco. Bene, senza farla troppo lunga, parlando appunto di felicità, di aspettative e di armonia, a Manuel l'ho detto, Manuel è perfettamente ragione, il più importante della felicità è la serenità, perché io tra qualche giorno accompagnerò i miei genitori all'aeroporto, per l'ennesima volta appunto non saprò quando li rivedrò e saremo tristi e magari si piangerà anche e non lo nego, non mi interessa, cioè le emozioni vanno, emozioni, energia in movimento, le emozioni vanno vissute a fondo, nel miglior modo possibile, vanno lasciate fluire e le nostre emozioni vanno condivise, perché io penso, lo dico spesso ai miei, e non solo ai miei genitori, ma anche ai miei amici o ai personaggi, coloro i quali fanno parte di quella che reputo la mia famiglia allargata, che un domani, se dovessimo avere dei rimpianti, i rimpianti maggiori, saranno tutte quelle volte che avremmo potuto dire a qualcuno ti voglio bene e non l'abbiamo fatto. Quindi a me non mi interessa niente come posso essere percepito dal prossimo, se sdolcinato, debole, emotivo, non mi interessa, io voglio cercare di vivere a pieno e al meglio tutte le mie emozioni. E quindi quando ci lasceremo all'aeroporto tra qualche giorno probabilmente si piangerà, io pianto in passato e piangerò in futuro per mille ragioni. Però se piangerò, se soffrirò con serenità, avrò modo di gustarmi il momento, perché è attraverso la serenità interiore che si vive la vita al meglio. E la vita è fatta di emozioni positive e di emozioni poco positive, negative. Però se non ci fossero quelle negative, non si assaporerebbero al meglio quelle positive. Tutto sta nel to embrace, nell'accogliere, nell'abbracciare, nell'accogliere appunto il bene e il male. E il bene e il male lo si può accogliere al meglio quando si è in pace con noi stessi, come dentro, così fuori. Soltanto quando si è sereni, come dice Emanuele. Quindi grazie Emanuele. Proseguiamo questo vlog partendo dalla sigla! Ripartiamo dalle aspettative e dall'armonia. Perché appunto dicevo che nel vlog di ieri in inglese ero riuscito a rendermi conto che le aspettative, le nostre, diciamo così, ambizioni, quello che ci porta ad accettare quello che è attualmente la realtà dei fatti è una delle chiavi della felicità. Questo non vuol dire che bisogna essere mediocri o accontentarsi. È giusto essere ambiziosi, però nel percorso di crescita, di raggiungimento dei nostri vari obiettivi, che siano obiettivi personali, interpersonali, professionali, economici, è fondamentale apprezzare quello che già è mentre conseguiamo quel che desideriamo, mentre creiamo la realtà che vogliamo. Quindi riuscire a porsi anche degli obiettivi quotidiani che sono di facile raggiungimento e poi magari i successivi più ambiziosi ci porta comunque ad apprezzare quello che è e raggiungere una felicità di base che poi ci permette lo stimolo successivo per continuare su quest'onda, su questo entusiasmo. E l'armonia è fondamentale perché appunto è normale che si abbiano obiettivi diversi, ambizioni diverse in vari ambiti della vita, ma bisogna relazionarsi con tutte queste attività, con tutti questi obiettivi in modo armonioso, proprio perché altrimenti non si ha quella serenità interiore che ci permette, sì, soprattutto di essere felici, ma anche qualora si provassero, come dicevamo poc'anzi, emozioni che sono meno positive della felicità perché non si provano, è normale che nella vita ci siano emozioni anche negative, che non necessariamente negative, ma dolorose, come si possono etichettare, meno rosee che la felicità pura, non si può essere felici 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 365 giorni all'anno, è normale. Ebbene, attraverso la serenità riusciamo meglio ovviamente a fare tesoro anche delle esperienze che appaiono essere poco positive o più dolorose, perché comunque anche il soffrire, di cui soffrire per amore, di cui sono state scritte infinite canzoni, infinite poesie, create infinite storie d'amore, infiniti film, infiniti libri, se non ci fosse stata quella piacevole sofferenza interiore non avrebbero avuto, non sarebbero esistiti. Quindi attraverso l'accettamento, l'accettazione, come si dice, di quello che è, si riesce ad apprezzarlo e ad estrapolare un qualcosa di positivo e di valoroso. Però, come dice Manuel, prima di tutto deve esserci la serenità interiore. Si può crescere quindi sia dal bene, nel bene e nel male, se si è sereni. Adesso, senza andare troppo sul macabro, sul cupo, io mi ricordo persino una massima di Oriana Fallaci che addirittura diceva che senza questa cosa, che chiamiamo morte, non esisterebbe la vita. Quindi è attraverso i contrasti della vita, gli opposti, come dice Abraham X, it is true contrast that we grow, that we understand what we want. È attraverso i contrasti che cresciamo e che realmente capiamo quello che vogliamo, quello che desideriamo. Tanta roba. Conclusa questa riflessione, ispirata da una conversazione con un amico preziosissimo, appunto, che non vuole essere l'insegnamento di un qualcosa che è un dato di fatto, assolutamente no, è semplicemente la condivisione di un pensiero, la condivisione di una riflessione, appunto, quest'oggi la giornata è stata piacevolissima. Come al solito, meditazione, lettura, tutti insieme, mentre Eva e la mamma erano in giro per i fatti loro, i tre uomini si sono occupati della cura dell'anima e della mente. Abbiamo proseguito ognuno con la propria lettura, il nonno sta leggendo Il Dono del Silenzio, di cui abbiamo parlato anche in alcuni dei vlogs precedenti. Il babbo sta procedendo con la lettura del potere di adesso di Eckhart Tolle, di cui parliamo sempre. E io ho proseguito con la lettura di questo libro di Deepak Chopra, Reinventare il corpo e risvegliare l'anima. Tra l'altro ci tengo a sottolineare che ieri sera abbiamo concluso la giornata guardando un film intitolato Click, che avevo già visto a tempo dietro, mi pare sia del 2006 o del 2008, link in descrizione, così come per i libri, e ve ne consiglio la visione. Avevamo tutti bisogno di vederlo, perché siamo sempre un po' tutti impegnati con delle cose meno importanti della famiglia, e quindi anche ieri ho chiuso la svelta per stare insieme, come farò questa sera. Anche perché poi chiuderò la svelta, perché domani mattina ci svegliamo per la live che sarà qui sul canale, le reazioni live alla partita dello Spezia. Detto questo, abbiamo proseguito con le varie letture e i miei ora di là stanno guardando Yes Man con Jim Carrey. Anche quello è un film che vi consiglio di vedere. Il link sempre in descrizione. Qualora non fosse in descrizione ancora è perché io registro la sera e poi mia moglie aggiunge e aggiorna la descrizione il mattino seguente. E poi sì, nel corso della giornata ognuno ha fatto il suo a livello professionale, però sempre in armonia, in armonia. E in serata siamo usciti a cena fuori con degli amici in un posto qui vicino che alle volte non apprezziamo le cose che abbiamo vicino. Io tendo a mangiare va bene, è una storia lunga ne parleremo in altri vlog quando parleremo dell'alimentazione, però cerco di mangiare, di essere plant-based, cioè di basare la mia alimentazione sulle piante. Non dico vegano, ma se è che vado in giro mangio di tutto e di più perché l'esplorazione culturale di un viaggio ha anche a che fare con l'esplorazione della cultura culinaria. Ma se è che devo andare a mangiare qui in fondo alla strada, in America, da dove non esco da sette anni per mangiare, scusate il francesismo, merda, preferisco mangiare roba più sana. Andiamo a cena da Yankee Bistecca. Nonno, sei contento? Facciamo una fotografia. See you house, Yankee Bistecca. Detto questo, siamo usciti con degli amici a provare un locale che pur essendo vicino a casa non avevamo ancora provato, anche sull'onda del fatto che è un, non dico turistico, però per gli italiani che vengono qua può sembrare una cosa carina provare un locale di questo tipo e abbiamo avuto modo di trascorrere una serata in armonia con alcuni dei nostri vicini. Abbandoniamo la nostra Lamborghini qui, guarda, in belle condizioni, la nostra fantastica Lamborghini, Però guarda un po' che spettacolo sto cielo, guarda un po' che spettacolo, eh? Fantastico, guarda che spettacolo il cielo. È bellissimo questo cielo. È bellissimo questo cielo. Ho detto quando siamo usciti di casa. Dove stiamo andando a mangiare? Andiamo a appunto curando il rapporto di vicinato che qui in America è piuttosto accantonato, è piuttosto trascurato in un locale che comunque è un locale piuttosto mediocre qualitativamente parlando. Nel frattempo arriva il nonno che viene a salutare e vai a dormire. Allora, vieni a darmi un bacino. Dai, mi dai un bacino in diretta. Ci vediamo dopo per la diretta di Spezia Cremonese, va bene? Dai, dammi un bacino. Alle otto. Ciao. Saluto a tutti. Saluto a tutti. Ciao. Ciao. La famiglia prima di tutto come sempre. Ebbene sì, quindi ho un po' perso il filo quindi pausa e proseguiamo. Ripreseguiamo anzi con la lettura della carta di Ebram X per andare in conclusione del vlog odierno. Tac! Questo video è stato presentato da Agriturismo Colline di Rossoli. Fai del tuo evento un evento speciale. Eccoci qua. Messo a letto il nonno perché poi ho avuto difficoltà con la luce in camera che oggi abbiamo tolto la prolunga eccetera. Eccoci qua per leggere la carta. Quindi tra l'altro oltre che ad aver messo a letto il nonno ho anche avuto modo di vedere l'ultimo quarto d'ora gli ultimi 20 minuti di film insieme ai miei perché stava venendo tardi e non volevo perdere l'occasione di godermi questa parte di film insieme a loro sentendoli ridere e tutto. Adesso chiudiamo questo montaggio e va bene così. Parlando di cibo che siamo andati a cena fuori la carta odierna è proprio a proposito del cibo della salute e la relazione vibrazionale in rapporto con quel che mangiamo. I can choose the thoughts I think about my food cioè posso decidere di pensare quel che voglio a proposito del mio cibo. Your observation of the results of other experiences with food gives you scanty and inadequate information. La tua osservazione dei risultati delle esperienze altrui con il cibo ti danno una inadeguata e grama diciamo informazione a proposito del cibo. for unless you are factoring in desire and expectation parlando va bene ci arriviamo perché a meno che tu non prenda in considerazione il desiderio e le aspettative cioè quel che noi ci aspettiamo da come causa come reazione ad una nostra azione then calculating the action of what has or has not been eaten is irrelevant ce la posso fare is irrelevant beh a quel punto calcolare l'azione di ciò che è o non è stato mangiato è irrilevante quindi stando alle credenze di Abraham X agli insegnamenti di Abraham X la reazione di un cibo non ha a che vedere con la costituzione del cibo ma ha a che vedere con il nostro desiderio e le nostre aspettative della reazione che otteniamo mangiando quel cibo mi spiego cioè non lo so oh non posso mangiare il dolce perché se no ingrasso noi ingrassiamo perché pensiamo che quel cibo ci faccia ingrassare io ho degli amici sin da ragazzino mi viene in mente Mattia mi accompagna di classe che pattinavamo insieme eccetera alle medie eravamo cule camicia ebbene lui aveva poteva mangiare qualunque cosa non ingrassava ancora oggi è un fuscello perché perché lui non ha mai avuto il problema di dire oh se mangio questo ingrasso ho sempre goduto quello che mangiava e facevamo la gara di chi mangiava più testaroli se non sapete cosa sono i testaroli dovete andare in l'unigiana in l'unigiana che è appunto ora dove vengo io praticamente semplicemente non si può lasciare fuori da questa percezione l'ingrediente più importante della ricetta della ricetta della creazione e della comprensione dell'outcome del risultato di quella conseguenza e quindi appunto gli ingredienti più fondamentali di questa ricetta sono appunto il desiderio e le aspettative è straordinario che la carta di oggi presa a caso di in cima al mazzo è proprio quella che ha a che fare con il cibo perché poco prima ignorantemente ho etichettato cibo merda e non dovrei non posso permettermi questo lusso al di là del contenuto pubblico che creo che chissà chi lo vede però c'è un privilegio mangiare qualunque tipo di cibo quindi da quale pulpito oso e mi permetto di etichettarlo come tale cioè ci sono persone che mangiare quello che abbiamo avuto il privilegio di mangiare noi questa sera veramente cioè con rispetto se lo sognano per le condizioni ambientali societarie quindi mi chiedo scusa e mi devo ravvedere infatti imparo tantissimo a fare quello che faccio e è per questo che godo nel farlo al di là di condividere una passione di condividere una conoscenza una riflessione imparo nel vedere come poi rianalizzandomi quello che rimane in video come avrei potuto dire meglio una cosa quale parola avrei potuto usare il linguaggio e mi ravvedo cerco di migliorarmi quindi proseguiamo quindi non è il cibo ma è il desiderio e le aspettative perché desiderio e aspettative sono vibrazioni in quanto scaturiscono dai nostri pensieri people respond differently to the food because the food is not the constant the thought is fantastico le persone rispondono diversamente ai vari cibi perché il cibo non è la costante è il pensiero la costante cioè è quello che noi crediamo a proposito di quello che ingeriamo che è la costante perché le credenze una credenza non è che un pensiero che continuiamo a pensare e una volta che quel pensiero si allinea col nostro desiderio quel desiderio diventa la nostra realtà questa è un'altra definizione di Ebram X che continuo a ripetere perché voglio che mi entri nel cervello nel cuore e nell'anima ma è la realtà dei fatti per come la interpreto io poi la realtà è sempre soggettiva ma anche in questi giorni se ne parlava cioè Eva e Dio stiamo attenti a bere la cambuccia vabbè prima mi sono fatto un whisky dopo cena stiamo attenti a non bere troppo vino stiamo attenti a non bere troppo birra stiamo attenti a mangiare plant based stiamo attenti a bere il latte di cocco di ananas latte di ananas ne esiste faccio per dire no di mandorla addirittura di piselli non beviamo il latte vaccino non mangiamo formaggi tutte queste cose qua mio nonno 89 anni in grandissima forma lucido l'avete visto anche poco fa sta benissimo ha fumato per 20 anni un pacchetto di sigarette al giorno è nata mia mamma ha detto smetto di fumare ha smesso di fumare col pacchetto di sigarette in tasca l'ultimo pacchetto di sigarette ce l'ha ancora in casa nel comò in camera sua lo useremo questo esempio quando parleremo della disciplina nei vlogs futuri ma detto questo lui sta bene e gode nel mangiare quello che ha piacere mangiare quindi non dico che possa mangiare anche i sassi e li digerirebbe ma è appunto l'aspettativa il desiderio il godimento di mangiare che gli permette cioè oggi con le credenze che ho io se mangiassi quello che mangia lui mi sentirei male per forza di cose ma è il cibo o è il pensiero bella domanda a voi decidere qual è la risposta giusta stando all'insegnamento di Abraham è sempre il pensiero andiamo avanti perché se no non la finisco più the thought is quindi il pensiero è sempre la costante nella creazione della nostra realtà it is the way you are thinking about the food that is making the difference è il modo in cui è ciò che tu credi a proposito del cibo che stai mangiando che fa la differenza a proposito della conseguenza che quel cibo ti arrecherà è una credenza che condivido che rispecchio ma che non applico infatti mangio soltanto quello che soprattutto non soltanto soprattutto quello che credo possa farmi bene in funzione delle conoscenze che ho e quando non lo mangio mi sento male perché credo che se mangio quella cosa mi farà male la legge della trazione è it's best al meglio ragazzi io vi ringrazio per il tempo che avete dedicato anche al vlog odierno ci vediamo domani per chi tra voi seguirà anche la diretta delle reazioni live le reazioni in diretta alla partita delle aquile che di questi tempi stanno facendo pietà ma al di là di questo ci vediamo domani con il vlog in inglese ricordate come sempre be better with books cioè migliora con i libri improve your thinking by reading to improve migliora il tuo modo di pensare il tuo pensiero leggendo per migliorare grazie mille ancora e avanti tutta questo video è stato presentato da Agriturismo Colline di Rossoli fai del tuo evento un evento speciale grazie a tutti Grazie a tutti.